Entrare in casa e salutarla è un rito di buon auspicio rivolto agli spiriti domestici, chiamati nel capologo pugliese fate o agurie, i cui primi racconti provengono dal borgo antico e in seguito all'espansione della città anche da altri quartieri. Partendo da questa ispirazione, l'associazione culturale Pigment Workroom ha dato vita al progetto Buonasera alla Casa, un'indagine antropo-artistica sugli spiriti domestici nella città di Bari. Il progetto presentato nel Museo Civico mira a intraprendere un itinerario alla scoperta della sfera più intima della città con l'obiettivo di valorizzarne la storia, le tradizioni e di promuovere la conservazione e la trasmissione dei saperi inerenti le fate della casa. I racconti sugli spiriti domestici sono stati tramandati per via orale di generazione in generazione, alcuni però si sono persi nel tempo e continuano a essere omessi per motivi scaramantici dovuti alle credenze popolari. E sostanzialmente su quello che accade di superstizioso legato anche un po' alla cultura del pregiudizio. Quindi speriamo con questo progetto di accompagnare la comunità ad un racconto che soprattutto galvanizzi e scongiuri dai pregiudizi questo tipo di cultura che appartiene alla cultura nostra storica, etnologica ed antropologica. Il progetto ha l'obiettivo di creare una sorta di mappatura emotiva della città di Bari e di giungere a un obiettivo minimo di un libro con le illustrazioni di DEM e chissà in futuro anche di altre mostre o altre forme di attività. Grazie.